inizia domani sera con le babbucce del buon re messa in scena dalla compagnia occhi sul mondo la quinta stagione del teatro break di perugia allestita dalla fonte maggiore teatro stabile di innovazione nuova stagione che nasce all'insegna di uno slogan ambizioso e ricco di promesse nuova linfa al teatro contemporaneo spazio dunque ai giovani sia come compagnie che come spettatori si è il ruolo che ci affida lo stadio qualche cosa uno stabile relazione che uno stabile di quelli che dovrebbero preoccuparsi praticamente di questi nuovi spettatori questi nuovi artisti noi cerchiamo di assolvere questo compito è chiaro che non è non è facile primo spettacolo della stagione come dicevamo le babbucce del buon re ispirato al calicola di camu è proposto da occhi sul mondo un eclettico gruppo perugino composto da attori danzatori acrobati e impegnato in una interessante ricerca sulla contaminazione tra diversi stili e linguaggi artistici nel cartellone del break nove spettacoli in tutto anche un altro gruppo umbro di foligno la società dello spettacolo con finding beauty il 18 febbraio ci sono anche tante compagnie nel territorio in realtà abbiamo scelto queste due perché l'altra volta ospitiamo tutte compagnie del territorio questa volta abbiamo fatto la scelta di confronti con far confrontare due compagnie più giovani con altre compagnie giovani ma del livello nazionale c'è più intanto sotterraneo una compagnia che lavora moltissimo all'estero babilonia sono compagnie oramai già importanti già affermate e che in questo momento si presenteranno qua